Io sono la mamma, addirittura la mamma? Signora ma come ha fatto? Dico come ha fatto? Paolo però tu ogni tanto devi guardare qua, capito? Addirittura la mamma! Lei questo figlio lo ama e per cui lo vorrebbe vedere sistemato, tranquillo, in grado di raggiungere degli obiettivi che per lui sono estremamente difficili in quanto proprio è un personaggio fuori, che ha delle stranezze, delle contraddizioni, tra l'altro insomma il ragazzo è arrivato a 40 anni e ancora non ha concluso niente, nemmeno la laurea, niente, niente, e allora torna a casa. Quando siamo qua io e tu che prende quella sede? Ecco sì, quando prende la sede. Guarda, mi chiamate sempre con quella tensione. Guarda, mi chiamate sempre con la visione. 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 Grazie a tutti.